Si festeggia, da domani finisce lo stato d'emergenza in Italia. Addio restrizioni! E addio mascherine FFP2. No, quelle restano obbligatorie. Sui mezzi di trasporto, allo stadio, al cinema, al teatro. Ma nonostante questo, da domani finisce lo stato di emergenza. E allora addio mascherine chirurgie? Eh no, quelle restano obbligatorie se vuoi entrare negli uffici pubblici e nei negozi. E allora diciamo addio all'obbligo vaccinale in generale? No, no, quello resta obbligatorio per il personale sanitario, scolastico, universitario e per le forze dell'ordine. E chi trasgredisce prende solo una multa, no? No, quello lo cacciano proprio. Però saranno contenti perché anche se disoccupati, da oggi finisce lo stato d'emergenza. Vabbè, una cosa è certa, addio al Super Green Pass. No, no, ma che sei matto. Quello resta obbligatorio nei ristoranti, nel bar al chiuso, nei palazzetti dello sport, nelle discoteche, nelle palestre, nelle piscine. Resta obbligatorio quello e pure le mascherine. Allora almeno addio al Super Green Pass sul posto di lavoro. No, quello resta obbligatorio ancora per un mese. Oh, ma tutto uguale a prima. Ma che è cambiato? È finito lo stato d'emergenza.